Benvenuti su Fast Forward, la rubrica dove parliamo di quello che accade su internet e che riguarda internet. Ogni tanto facciamo dei tutorial e questo tutorial che state guardando è semplicemente la panoramica di Search Console che ci introduce a tutta la playlist che stiamo creando. Quindi è il primo video della playlist, poi ogni singola voce viene approfondita con dei video specifici. Qui facciamo semplicemente una panoramica. Il secondo video della playlist sarà dedicato interamente al menu prestazioni, ma attenzione perché siamo a quasi dicembre del 2019 e quindi tra, facciamo finta, sei mesi magari ci saranno nuove voci e quindi io farò un secondo tutorial che metterò come secondo di questa playlist e farò un altro riorientamento delle voci nuove e poi le andiamo a approfondire. Vediamo che cosa c'è in Search Console, quindi questo tutorial brevissimo panoramico per orientarci e capire che cosa c'è dentro nelle voci più importanti. Già c'è da dire questa cosa, che questo sito non ha il Google Discover e quindi non vedete il pannello Discover, lo hanno tanti altri clienti ma ovviamente non posso mostrarli. Quindi qua, quando c'è un sito che è il Discover, è molto chiaro che dentro prestazioni Google mostra i risultati di ricerca e il Discover in modo separato. Quindi già ci sta dicendo una cosa molto importante, che prestazioni si divide in due sottovoci per ora, che è Search, quindi risultati di ricerca e Discover. In introduzione, che vedete qua, abbiamo i pannelli più importanti secondo Google, prestazioni, copertura e miglioramenti. In prestazioni approfondiamo tutta la parte praticamente dei click, come sta andando il nostro sito, che impression fa, che CTRA, eccetera, eccetera. Ed è il secondo o terzo video di questa playlist. Poi abbiamo Controllo URL dove potete controllare come sta andando, se c'è un problema potete fare una richiesta di indicizzazione, anche su questo faremo dei tutorial più avanti e fate un check up andando a vedere anche varie cose della pagina, molto utile. Sotto indice invece abbiamo Copertura, che è l'officina SEO, gli possiamo dare dei nomi, prestazioni, l'ho chiamato la miniera d'oro dei SEO. Copertura è l'officina dei SEO, che praticamente vi dà tutti gli errori che ci possono essere e si possono andare a controllare. Pagine esclusa, perché? Con tutti i vari problemi. È sicuramente una voce molto interessante. Sitemap, invece possiamo controllare le mappe del sito che noi diamo, possiamo inviare la sitemap e quindi cercare di vedere come sta andando, entrare nella singola sitemap e correggere se ci sono degli errori. Poi abbiamo Velocità, Sperimentare, che fa parte del menu Miglioramenti, quindi la voce sperimentale abbiamo, è la velocità divisa tra dispositivo mobile e desktop. Anche qui andremo sicuramente ad approfondirla. Usabilità sui dispositivi mobili con tutte le indicazioni sulle pagine, eccetera, eccetera. E poi informazioni sui dati strutturati, per esempio i breadcrumbs, chi ce li ha, oppure la casella di ricerca dei sitelink o ancora i dati strutturati non analizzabili. Qui a secondo del sito che avete incominciano a esplodere le voci. Ogni voce cambia a secondo del sito che avete perché stanno arrivando nuove cose, perché ognuno ha un pannello dedicato. In sicurezza e azioni manuali ci sono le azioni manuali che Google fa su di voi, quindi potete vedere se ci sono dei problemi per quanto riguarda le penalizzazioni. Invece poi abbiamo la voce dentro sicurezza, problemi di sicurezza, qui quando per esempio vi craccano il sito. Poi abbiamo link, interessante, abbiamo fatto già il tutorial, quindi ve lo trovate nella playlist che ci dà l'andamento di come ci stanno linkando gli altri, di come ci stiamo linkando noi internamente. Infine, oltre a invia feedback e comment sulla nuova versione, abbiamo impostazioni che ci consente di impostare una serie di informazioni come la proprietà, il cambio di indirizzo, eccetera, eccetera. Nel menu informazioni qua sotto di impostazioni ci dice quando è cambiato Googlebot per smartphone, quando è avvenuto all'interno di questo sito. Bene, questo è stato un video panoramico, vi lascio al secondo video della playlist che potete guardare per ora, vi ripeto, è quello prestazioni, se tra sei mesi usciranno tante voci nuove, il secondo sarà un altro video di orientamento delle voci nuove. Vi lascio al prossimo tutorial. Grazie a tutti.